Chiediamo il più presto possibile di vedere, di risolvere questa situazione molto grave perché non si fa più niente qui. Siamo qui tutta la settimana a aspettare il sabato e la domenica ma i turisti non arrivano. Invocano al più presto una soluzione i 1500 abitanti di Madesimo e Campodolcino costretti dal 13 aprile scorso a vivere isolati in Valle Spluga a causa del pericolo costituito dalla frana di Gallivaggio. Per loro una prigionia in quello che potrebbe essere definito un moderno deserto dei Tartari, costellato di alberghi chiusi, strade vuote e locali tristemente desolati. Come operatori turistici siamo seriamente preoccupati perché comunque non vediamo un futuro rosio. Ci auguriamo che le istituzioni tengano conto anche di questa situazione, di questi due mesi ormai trascorsi senza lavoro. Da oltre un mese la strada statale 36 risulta essere transitabile in sole tre fasce orarie, dalle 5 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 21. Le opere di disgaggio dei 5000 metri cubi di roccia richiederanno tempi troppo lunghi e nell'immediato non esiste una valida soluzione. La speranza è quella di riuscire a realizzare in tempi celeri, pare entro la metà di luglio, una bretella alternativa alla statale 36, una via di fuga in grado di salvare almeno in parte la stagione turistica. Noi speriamo che facciano quantomeno una strada laterale, una variante a tempi brevi anche e soprattutto per la stagione estiva, per gli albergatori e i commercianti che sono quelli che risentono di più di questo problema. Rimangono ancora incerte però le tempistiche precise degli interventi. In questi giorni i vertici di Regione Lombardia, di Anas e della comunità montana della Val Chiavenna stanno vagliando i progetti della pista alternativa. Il verdetto sulla fattibilità è atteso per domani. Al netto dei non secondari interessi legati alla stagione turistica rimangono i disagi a cui la popolazione deve far fronte per potersi muovere. Chiavenna è per molti il luogo di lavoro, la sede degli istituti scolastici o, ancora più importante, il centro dove si trova l'ospedale più vicino. Mia moglie è stata male l'altra notte, 118 era presente, ma solo per il trasporto, portarla in giù, portarla su, ho dovuto dormire giù per sicurezza. Ho dei problemi di salute ma per andare in ospedale a fare delle visite sono handicappato anche per la strada.